L'edicola 77 a Fontenoce di Recanati, situazioni e problemi degli edicolanti delle province di Ancone e Macerata. L'anno di lavoro che si sta per chiudere per la categoria, risultati ottenuti. L'anno è andato male, come per tutti gli edicolanti di tutta l'Italia. Male vuol dire un 10% in meno di vendita, un certo per cento di reddito alle edicoli. La vostra rete di distribuzione? La rete di distribuzione nella provincia di Ancone e Macerata conta all'incirca 600 punti vendita. 400 nella provincia di Ancone e 200 all'incirca nella provincia di Macerata. Una rete distribuita su tutto il territorio, molto capillare, in tutti i quartieri e tutte le realtà anche le più minuscole. Noi abbiamo un'edicola, abbiamo un punto di riferimento per chi vuole leggere, per chi vuole approfondire, per chi vuole conoscere. Problemi da risolvere? Problemi da risolvere, problemi dai grossi e più grandi che noi poniamo all'attenzione della politica, del Parlamento, in questo momento sono quelli di togliere la nostra attività, l'edicola, dalla legge di liberalizzazione. Perché questo ci ha penalizzato, ha penalizzato il mercato dell'editoria senza portare alcun vantaggio, né a chi i giornali li stampa, né ai consumatori, perché i giornali sono un prodotto a prezzo fisso. Problemi non certo finiti? Problemi non sono finiti, il più importante che noi rivendichiamo è quello di poter certificare le vendite. La legge nazionale sull'editoria prevede stanziamenti agli editori a sostegno della stampa dei giornali in maniera proporzionale alle copie vendute. Chi certificherà la venuta vendita dei giornali avrà la sovvenzione e noi intendiamo avere questa possibilità da parte del governo, perché noi possiamo farla, perché soltanto l'edicola posso certificare le vendite reali che vengono fatte. L'altro problema è quello del riconoscimento di servizio pubblico dell'edicola, perché noi riusciamo a portare conoscenze, sapere e informazione anche nei punti più sperduti della nostra provincia. Se noi tendiamo conto della realtà che sono le marche fatte di piccoli comuni, fatte di piccole realtà, di posti sperduti in montagna, noi lì siamo presenti con la nostra rete di vendita, con le nostre professionalità e lì noi possiamo garantire a tutti una conoscenza, la conoscenza e la possibilità di informarsi liberamente. Il titolare dell'edicola 77, tanto lavoro di sicuro, ma quali i risultati? Ma diciamo che i risultati lasciano molto a desiderare, anche perché le vendite sono in questo ultimo periodo molto calate, anche dal fatto che la vendita dei quotidiani e delle riviste sono liberalizzate anche in altri negozi, tipo supermercati e altri negozi vari. La distribuzione del materiale croce o delizia? La distribuzione del materiale è cambiata dal primo maggio di quest'anno, è cambiato il distributore e diciamo che in questo momento è quasi più croce che delizia, perché ci fa mancare le prenotazioni, viene a mancare alcune riviste che si potrebbero vendere facilmente e generalmente le quantità dei quotidiani non sono mai soddisfacenti alla vendita. Insomma, c'è da sudare per tirare avanti? Diciamo che in questo momento è difficile, molto difficile, però noi tutti i regolanti ci auguriamo che col passare del tempo le cose migliorino. Dopo quanto già esposto, le negatività più evidenti? È questa della liberalizzazione, perché? Perché noi ci hanno messo in un mercato libero, cioè non chiunque in questo momento può chiedere una licenza di vendita dei giornali, ma di fatto chi determina l'apertura o la chiusura di un punto vendita sarà un soggetto privato che è il distributore. A seconda della propria capacità economica, a seconda se gli conviene o non conviene fornire quel distributore. La liberalizzazione tra l'altro ci pone in un mercato che libero non è, perché nessuno di noi può acquistare la merce che vende da un altro distributore e soprattutto non esiste concorrenza reale perché il prodotto ha un prezzo imposto e quindi il beneficiario, l'acquirente finale, non ha nessuna convenienza dal proliferare di punti vendita. Il proliferare di punti vendita invece ha portato a un impoverimento delle realtà esistenti, un impoverimento complessivamente di tutta la filiera e nessun vantaggio per l'utente finale. Stringendo, stringendo, cosa rivendica in pratica la categoria? Allora, stringendo, noi rivendichiamo appunto questa uscita dal regime di liberalizzazione, il riconoscimento di servizio pubblico e la possibilità di certificazione delle vendite che vengono effettuate nell'edicola. E adesso cosa potete sperare, vista la tragica situazione nazionale? Allora, la situazione nazionale è abbastanza tragica, però nel nostro scomparto noi abbiamo grosse aspettative. Le grosse aspettative è dovute dal fatto che il sottosegretario Legnini, alla presidenza del Consiglio, preposto alle questioni dell'editoria, ha concordato con le parti sociali e quindi anche con i diricolanti, le rappresentanze sindacali diricolanti, un piano di intervento. Questo piano di intervento è stato bloccato dalla legge finanziaria, dalla fiducia posta sulla legge finanziaria, ma tutte le questioni rimaste aperte saranno messe in discussione nel prossimo mese di gennaio. Queste sono le cose sulle quali concordiamo con il sottosegretario, appunto questa uscita dal regime di liberalizzazione e nel riconoscimento di certificazione da parte delle edicole dei prodotti venduti. Questo ci lascia per sperare, certamente noi non ci rendiamo conto che le parti lesi da questo accordo, cioè i distributori che vogliono loro certificare le vendite, gli editori, non staranno con le mani in mano. Noi speriamo che questo governo, che il sottosegretario Legnini, tenga fede e mantenga ferma gli accordi raggiunti con le parti sociali nel mese di dicembre. Quindi se non salta la baracca sperate in qualcosa di positivo? Certo, se la baracca non salta e segnali, sembra che in questa direzione non ce ne siano immediati, noi pensiamo che nel mese di gennaio riusciremo a portare a casa una legge, una legge collegata alla legge di stabilità che raccoglie le nostre istanze e le nostre rivendicazioni. Sperare sempre, ma intanto molti edicolanti si trovano di fronte al dilemma continuare o abbandonare l'attività.